La legge di Stevino, invece, ci permette di calcolare la pressione che c'è ad una certa profondità. Quindi, consideriamo un contenitore in cui è presente un liquido. Se noi vogliamo calcolare la pressione presente ad una certa profondità, dobbiamo utilizzare la legge di Stevino. La legge di Stevino implica che la pressione è data dalla densità del liquido, moltiplicata per G, che abbiamo visto essere l'accelerazione di gravità, e H, che è la profondità a cui questo liquido...